Allora salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, allora vogliamo proseguire la serie di Job e questo è la parte numero quinta. Le precedenti parti le trovate nel canale principale denominato Alessio 912. Sono in macchina e quindi utilizzerò questo secondo canale non credo lo andrò a caricare nell'altro canale insomma chi è interessato sa come fare. Quindi Allora Tenendo in considerazione, quindi non dimenticando, seguiamo questa serie di questo Job, di questo libro di Job. È la prima volta nella mia vita che mi accingo a trattare diciamo il libro in maniera così come stiamo facendo. Ok? Certamente in tutti questi anni di predicazione e insegnamento ne ho parlato ma dedicare video interi a questo meraviglioso libro non lo avevo mai fatto. Bene, ci sono più perché ma insomma adesso questo è sulla. Quindi andiamo avanti. Tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Allora Abbiamo visto nel video precedente, abbiamo chiuso il video precedente con il già detto non stiamo lavorando il libro in maniera analitica, ok? Come dire verso dopo verso e così via discorrendo ma semplicemente andremo a prendere quello che ci ha colpito di ogni capitolo qualora ci avesse colpito qualche cosa in un determinato capitolo. E quindi ci siamo lasciati col capitolo 3. Quando abbiamo parlato appunto, ce l'ho scritto qua, quello che temevo è ciò che mi è successo. Ok? E non trovavo il verso, io, chi ormai mi conosce si metterà a ridere, giustamente, io non trovo mai versi. Incredibile. L'ho letto mille volte il libro, però io non trovo mai versi, perché mi ascolto. E vabbè. Dicono i legalisti del web della predestinazione, è perché non hai ricevuto la chiamata. Eh, c'hai ragione pure tu. Dagli ragione. Allora, il verso che dice questa grande verità si trova appunto nel capitolo 3, il verso è il numero 25, ok? Che dice, io leggo da una vecchia di Udati, perché ciò che io avea in spavento mi è avvenuto e mi è sopraggiunto quello di che avea paura. Questo è un linguaggio arcaico. Alleluia. E ne abbiamo parlato e veramente qui ci sarebbe da soffermarcisi e da dedicare diverse ore a, come dire, chiudersi nella propria camiretta, mettersi a pregare un'ora, due, pregare, lodare Dio, chiedere luce a Dio e poi investire qualche ora nello studio alla luce del contesto di questo che abbiamo letto, per quanto è profondo. Ehi, è uno dei misteri wow. Gloria a Dio, ma i misteri li deve rivelare il Signore e noi li dobbiamo cercare, perché è scritto. Chi cerca trova, appunto, chi cerca trova. Quindi. Allora, io è tutto improvvisato, a predestinazione, barzelletta della predestinazione, i dindirindini e tutta sta gente qua, che sono riformati, anche se loro non lo dicono. No, no, lascia stare. Tu sei quello che sei, a prescindere da quello che dici. Se poi quello che dici corrisponde a quello che sei, è un altro paio di maichi. Siete dei riformati, siete dei calvinisti e, come tutti i calvinisti, rinegate Calvino. Allora, dice, nessuno si può salvare? Se il Dio non lo salva. Verità assoluta. È vero. Noi non ci possiamo salvare da soli. Forse è per questo che Dio ha mandato il suo onigenito figliuolo? Affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna? Quindi Dio ha già fatto questo e lo ha fatto per tutto il mondo? E quindi Dio vuole salvare tutto il mondo? E Dio compunge i cuori di tutto il mondo? Ma non tutti accettano, certamente. Quindi, vero è che Dio rivela i misteri? E se Dio non rivela i misteri, non c'è niente da fare. Però, altrimenti, sì, è vero che chi cerca trova. E quindi io devo cercare i misteri? Come dire, è vero è che Dio ha detto a Noè tu ti salverai, ma Noè si è dovuta costruire l'arca a lui? E se Noè non avesse costruita l'arca, nonostante avesse creduto, non si sarebbe salvato lui e la sua famiglia? Come dire, Dio ha fatto e se Dio non fa, nessuno può fare nulla, nessuno si può salvare, ma allo stesso tempo noi dobbiamo fare il nostro e Dio ha predisposto le cose in maniera che noi potessimo fare. Intanto Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza e abbiamo quella cispa, non so se in italiano si dice cispa, mi pare di no, però vabbè, quella scintilla, ecco. No, non si dice cispa in italiano, però quella scintilla. Quindi tutto nasce da Dio, quindi altro che predestinazione, questa predestinazione, no? Alcuni dicono il libro albidio viene dalla massoneria, la predestinazione viene dalla massoneria perché è stoica, è gnostica e da lì nasce la massoneria. Allora, se un metro di misura va utilizzato per una cosa, non puoi annullarlo poi per il resto delle cose? Beh, quindi tutto questo è nato dal fatto che stavo parlando appunto che ci sarebbe da investigare in questo verso 25. Quindi vero è che Dio rivela, Amen, e se Dio non rivela non c'è niente da fare, ma altresì, scritto è, perché così dice la scrittura, altresì, scritto è, Matteo 4, altresì, scritto è, cercate. Cercate i misteri di Dio. Dio lieti a indagare la parola di Dio, non andare a cercare i misteri di Dio fuori dalla parola di Dio, perché altrimenti sei gnostico. Bene, ma è venuta così. Allora, gloria a Dio. E quindi abbiamo lasciato il capitolo 3 in maniera, come dire, come già detto appunto, ci sarebbe stato da dedicargli molto, molto, molto tempo, però, non lo abbiamo fatto e questo, ahimè. Ma andiamo avanti, facciamo quello che possiamo e cercheremo di migliorarci. In futuro, Giobbe capitolo 4 ci dice una grande verità. Io qui ci ho scritto il concetto, no? Prima davi forza ai deboli e adesso? Prima davi forza ai deboli e adesso? Dove sta scritto? Leggiamo il capitolo 4 quando la scrittura ci dice quanto segue. E Eliphaz Temanita rispose e disse Io non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo. Gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo. Se noi imprendiamo a parlare di molesto, ma pur che potrebbero attenere le parole, tu correggevi molti, no? Quando io ho scritto il concetto tu davi forza ai deboli, tu correggevi molti e rinforzavi le mani rimesse, cioè le mani dei debole. Gli facevi giusta causa, li rinforzavi, li aiutavi, prendevi la sua causa, la loro causa. I tuoi ragionamenti ridirizzavano quelli che vacillavano e tu raffermavi le ginocchia che piegavano. Ma ora che il male ti è avvenuto tu te ne affanni ora che è giunto fino a te tu ne sei smarrito. La tua pietà non è ella stata la tua speranza. Questo verso 6 va nel capitolo precedente perché ciò che io avevo e spavento è quello che mi è avvenuto. Ma adesso questo esula. E l'integrità delle tue vie, la tua aspettazione derrammemorati quale innocente per i mai. Vedi tutti i concetti che abbiamo espresso nei video precedenti. quale innocente per i mai. Quindi tu stai soffrendo e sta cosa viene da Dio. Punto. Ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi che cosa ci dice tutto questo? Torno a ripetere Giobbe siamo noi. Ognuno di noi è Giobbe. Quindi ora qui non è stato Giobbe a parlare però ci rendiamo conto di più cose. Intanto vediamo due situazioni. adesso quello che lui ha detto lo ha detto nei confronti di Giobbe. Quindi vogliamo un attimino esaminare Giobbe e poi passeremo invece all'accusatore che è Elifaz. Allora ci dice questo personaggio è vero che lui correggeva molti rafforzava i deboli dava forza faceva giustizia perché era giudice era sapiente e così via discorrendo. Infatti è scritto nel capitolo 29 ne abbiamo già parlato che Giobbe era un giudice ma a un certo punto gli è piombato diciamo il male la tragedia. una delle una già ne abbiamo parlato una delle situazioni uno dei perché ecco forse è meglio dire questo metterla così uno dei perché il Signore permette il male permette la tragedia nella nostra vita oltre le cose già dette nei video precedenti è quella che anche questa l'abbiamo detta ma comunque la vogliamo ripetere è quella che quando noi veniamo afflitti veniamo anche consolati e quando noi veniamo consolati veniamo equipaggiati facciamo delle esperienze e come noi siamo stati consolati saremo in grado di consolare gli altri. Questo è scritto in seconda Corinti Seconda Corinti 1,4 Seconda Corinti anche Pietro ne parlerà Seconda Corinti lo vado a prendere nella mia Bibbia Seconda Corinti eccolo qua 1,4 Il quale ci il quale ci consette l'afflizione ci consola nell'afflizione a ciò che per la consolazione con la quale noi stessi siamo stati da Dio consolati possiamo consolare coloro che sono in qualunque afflizione è facile leggerlo come dico sempre non c'ho niente siamo bravi a leggere accevicchia quanto siamo bravi a leggere però poi questo va vissuto e non è più facile e tutti passiamo per questo quando arriva la fiumana è un guaio ecco perché dobbiamo costruire la casa sulla roccia la casa siamo noi il Tempio di Dio siamo noi e lo dobbiamo costruire nella roccia perché la fiumana arriva io non sono profeta ma la professia della faccio dicendo così dice il Signore nella sua parola nella nostra vita arriverà la fiumana e non una volta e allora se tu avrai costruito la tua credo lo Spirito Santo il Tempio di Dio nella roccia che è Cristo la sua parola il tuo credo è nella parola di Dio e quindi hai ricevuto lo Spirito Santo perché questo dice la parola di Dio e sei ripieno e cerchi e così via discorrendo certamente la fiumana arriva e ti prende la fiumana e ti bagna l'acqua l'acqua quando arriva ti bagna no che noi non soffro non mi succede niente non mi ammalo nulla no l'acqua ti bagna è come se ti bagna ma non ti sposta non porta via la casa perché la casa è sulla roccia situazione diversa se la casa non è costruita sulla roccia ti bagnerà come bagna quello che ha la casa costruita sulla roccia ma porterà via la casa porterà via la tua fede e quando la tua fede viene portata via tu punterai il dito contro Dio e dirai perché Dio ha fatto questo perché Dio ha permesso questo Dio qua Dio su Dio giù Dio non c'è Dio non esiste bene vado ma è corso la parola di Dio non è vera di qua di là di su di giù quanta gente costruendo la propria casa fuori dalla roccia dicendo con la bocca di avere la roccia ma de facto la rinnegano perché hanno altre rocce hanno Pietro come roccia hanno la chiesa cattolica come roccia hanno il papa come roccia hanno la propria religione come roccia ma quella non è una roccia è paglia e sarà provata col fuoco e sarà estinta e portano avanti solamente menzogne ma non c'è niente da fare per gli ebrei c'è una grande verità quando si convertiranno allora il velo sarà rimosso prima ti converti e poi capisci che Gesù questo vale per gli ebrei alcuni dicono solo per gli ebrei vabbè di questo se ne potrebbe parlare questo è scritto in romani però sai che non mi ricordo dove allora un biblico quindi non so se lo trovo subito bene altrimenti romani 9, 10 e 11 parla di questo ma dove vediamo se lo trovo bene per quanto riguarda la conversione degli ebrei vediamo se lo trovo quindi romani 9 poi c'è romani 10 e romani 11 e dice allora tutto Israele sarà salvato non so Grazie a tutti. No, non lo trovo, non lo trovo. Almeno che non è o corinthi o galeti, ma non credo. Comunque c'è un passo che dice... Non ho la chiave biblica, ma... Vabbè, comunque c'è un passo che dice quando si convertiranno, allora il velo sarà loro tolto. Vabbè, non lo trovo. Voi lo sapete, io non trovo mai versi. Eccetera, eccetera, eccetera. Però la parola di Dio abita nel mio cuore e questa ma ricordo bene quello che c'è scritto. Magari non mi ricorderò dove sta scritto, però mi ricordo quello che c'è scritto. Questo sì. E quindi gli ebrei prima si devono convertire e poi gli viene tolto il velo. E infatti molti ebrei che si stanno convertendo in maniera miracolosa, perché Cristo stesso gli appare, quando accettano Cristo, allora vedono, il velo viene rimosso e cominciano a vedere, ad esempio, il Cristo nella Pasqua. Perché in tutti questi, nei millenni passati, ogni ebreo prendeva l'agnello, lo portava, ok, per la propria famiglia e lo dava. Ma nel giorno della Pasqua del Signore, il padre, lui, prese il proprio agnello che è Gesù e lo diede. Agnello perfetto, senza macchia, senza errore, vero uomo e vero Dio. Benissimo. Prima di chiudere voglio la cura dell'accusatore di Giobbe. Quando l'uomo di Dio, perché Giobbe era un uomo di Dio, viene provato e viene meno, subito c'è qualche accusatore che non si sta trattando qui di temi dottrinale, uno che calpesta la parola di Dio e bisogna resistergli in faccia e così via discorrendo. No, si tratta di un vero figlio di Dio, ma che sta passando per la prova e, ahimè, è venuto meno. Subito non mancano coloro che ti puntano il dito. E stanno sempre a puntare il dito sui peccati degli altri e allora fanno un peccato. Ripeto, non è un fatto dottrinale, ma fanno un peccato. Tutti i legalisti del web mettono i peccati sul web, però quando loro peccano non pecchino come tutti, o loro sono senza peccato o non sbagliano mai. Perché quando loro peccano o fanno degli errori non li pubblicano? Allora sono due le cose, o loro non sbagliano mai, non peccano mai, e allora sono immacolati, come Maria, come dicono i cattolici. Beh, questa è una chimera. I cattolici occidentali, perché i cattolici orientali non dicono questo. Dicono il contrario. Ma di questo già ne abbiamo parlato, lasciamo perdere. Ok? Allora o loro sono senza peccato e senza errore, oppure due pesi e due misure. Quindi questo ci fa capire che quando noi vediamo un fratello che viene meno, di pregare per lui. Ripeto, uno che calpesta la verità dottrinalmente, ragazzi, resistiamogli in faccia. Che cambia il consiglio di Dio, resistiamogli in faccia. Ci sono alcuni? I dindirindini? No, lo voglio dire pubblicamente. Il signor Giacinto Butindaro, mendace, ha detto John Wesley era un massone, perché lo ha detto una rivista massonica. Perché il signor Giacinto Butindaro non dice altresì che ci sono due riviste massoniche che hanno detto che John Wesley non era massone? Ma il suo problema è che lui odia che Gesù è morto per tutti. Lui no. Lui dice no, la grazia è solo per alcuni. Gli altri sono stati fatti nascere per essere lanciati all'inferno nelle pene eterni. perché a portarli nell'inferno non sarà il fatto che loro hanno rinnegato la grazia di Cristo, quindi per loro volontà, ma è Dio che li ha creati per questo. siccome lui odia la grazia per tutti, perché è un riformato, è un calvinista, dice una cosa, ma omette il resto. E anche per quelle immagini che hanno fatto vedere, c'è, ci sono delle risposte, perché quando uno è massone è massone, ma quando uno non è massone, non è massone. John Wesley non era massone, capra agnostica. Ecco, ecco, quando tu cambi la parola di Dio, la infanghi, allora bisogna resistergli in faccia. Ma quando sono peccati, appunto come Giobbe, e quant'altro che si va sempre a pubblicare i peccati degli altri, no, occupiamoci della dottrina, poi ogni cosa ha sempre le sue eccezioni. Ok? Benissimo. Niente, e questo è stato il video, sono 25 minuti e sto a parlare. Io, secondo me questa serie è molto importante, sono 25 minuti e sto a parlare. Interessante notare che il Cristo mi è passato davanti, disse uno dei tre amici, e poi Dio disse Dio non si fida dei suoi stessi angeli. Bene, queste sono affermazioni importanti, molto importanti, perché abbiamo trattato degli argomenti molto necessari io vado, dice, ok? E mi è venuto così. Spero questo video sia di insegnare magari vista l'importanza dei temi trattati, con voi come sempre è stato un essere evangelisti, se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom, Maranatah, il Signore sta per rapire la sua Chiesa. Gioisci, perché non passeremo la grande tribolazione. Amen! Noi aspettiamo Cristo, non l'anticristo. L'anticristo lo stanno aspettando i post-tribolazionisti. Noi aspettiamo Cristo e molto presto la Chiesa sarà rapita. Chissà quando. Ogni momento è buono. Ogni momento è buono. Dio ti benedica. Shalom.